Da quando sabato scorso sono partiti i lavori di demolizione del rudore industriale dell'ex Molino Albani, sono anche partite le polemiche. Che questa zona andasse rivalorizzata e che così com'era ridotto lo spetrale guscio di cemento armato, contenitore di indesiderati ospiti e pessima cartolina d'ingresso della città, non vi erano dubbi, del resto il suo destino era già stato deciso da tempo. Ma pare che le decisioni prese, oltre a mettere in moto le ruspe, hanno anche messo in moto una parte della cittadinanza che dopo anni di oblio silenzioso, d'un tratto si sia destata. L'intelligenza cittadina si è scatenata. Considerazioni da più parti e su più fronti, associazioni sindacali che sottolineano che Fano non ha affatto bisogno di altro cemento, artisti che evidenziano il fatto e il lato romantico di un luogo immortalato su tele e disegni, o chi invoca l'archeologia industriale, essendo quell'errudere uno dei depositari dell'innovativo sistema in cemento armato Enibic, cosa sulla quale si era espressa anche la soprintendenza, decretando però che lo stato di assoluto e profondo degrado non permettono una salvaguardia significativa del bene. Anche la politica locale, in vista delle elezioni, non poteva farsi sfuggire un boccone così succulento su cui affondare le fauci, sul destino commerciale dell'area, sull'allarme dei piccoli esercenti del centro storico preoccupati per la loro sopravvivenza, sulle scelte del PRG e dell'assessore all'urbanistica Paolini, che emette sì un comunicato chiarificatore, ma che altro non fa invece che gettare una lata di benzina nel mezzo di un falò. Il dibattito sul mulino Albani è aperto da molte decine di anni, direi almeno da un paio di decine di anni. Chiaro che quando noi amministriamo dobbiamo tener conto degli atti amministrativi, l'atto amministrativo che norma la trasformazione del mulino Albani è il piano regolatore del 2009, nel quale non era prevista la conservazione del manufatto, ma una possibilità di trasformazione più ampia. È importante che questa città e tutti i suoi cittadini capiscano che sulle questioni urbanistiche bisogna ragionare, dibattere nei momenti più opportuni. Io ho un'abitudine vedere magari le persone che si scandalizzano quando un prato diventa improvvisamente una casa, perché magari su quel prato ci andavano a giocare i bambini, ma la scelta era stata fatta vent'anni prima e nessuno lo sapeva, quindi ecco perché in questo mandato abbiamo avviato prima un piano strategico, oltre agli studi socio-economici, che ha comportato una partecipazione e nell'ambito di quei macro obiettivi del piano strategico stiamo andando avanti, per step successivi, tenendo conto anche delle evoluzioni normative e dei guai che ti fanno rallentare nei percorsi che ci sono in tutti i giorni, e siamo anche in Italia, sappiamo che le cose cambiano, ti cambiano le norme mentre lavori, eccetera, eccetera, ecco, e anche qui è importante fare ulteriori passaggi partecipativi, non è un caso che stiamo arrivando a un atto di indirizzo sulla città pubblica che potrà aprire il dibattito o farlo anche arrivare capillarmente per definire appunto gli obiettivi pubblici della città, che sono gli obiettivi che hanno tutti.